Ciclidea, azienda storica del Cilento, con il suo brand Italy Bike & Rental destinato al mercato del Rent Bike, aveva già calendarizzato diverse esperienze con la partecipazione di oltre 500 turisti provenienti dal Nord Europa e dall'America, ma l'avvento della pandemia da Covid-19 ne ha causato il rimando a nuova data. Così è nata l'idea di formalizzare la collaborazione con Vivi Cilento, società cooperativa presente nell'intero ambito del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Italy Bike & Rental, con le sue 120 biciclette, di cui 20 ha pedalata assistita nel desiderio di lanciare un messaggio di eco-sostenibilità e quindi incentivarne l'utilizzo, in accordo con Vivi Cilento, vuole porre alla base la riqualificazione dell'offerta turistica territoriale connessa all'ambiente, allo sport, all'area aperta e nello specifico al ripristino delle piste ciclabili, dandone anche vita nuove. Le due realtà turistiche hanno deciso di unire le proprie forze e competenze affinando verso la qualità l'accesso a questa importante opportunità, legata a un target di turismo maturo ed economicamente rilevante, ciò con la possibilità per le strutture ricettive di poter porre un servizio di qualità ai propri ospiti al nome di Cilento in bicicletta, oltre all'opportunità di poter avere due stazioni di noleggio mobile su prenotazione sia alla stazione ferroviaria di Capaccio Pestum che di Agropoli Castellabate. Lo scopo sarà incentivare l'uso delle bici e anche una presenza di più giorni con la proposta a noleggia la tua bicicletta elettrica, tre giorni, il quarto è gratis, trasporto incluso fino a 30 chilometri.